Parliamo adesso di esportazioni, un dato da record per quanto riguarda appunto i prodotti raffinati dal petrolio, un dato in totale controtendenza rispetto appunto alla transizione energetica. Maurizio Ciotola. La crescita dell'export sardo riguarda in misura evidente ai mercati il settore dei prodotti raffinati dal petrolio e i prodotti chimici. Il valore globale di incremento è dell'8,9% con l'11% per il raffinato del petrolio e il 21,5% per i prodotti chimici. Il pescato è invece un decremento non trascurabile pari al 4,5%. Insomma, i prodotti che disardano solo l'intervento manifatturiero ed alto impatto ambientale costituiscono ancora oggi il traendo dei prodotti isolani, diversamente da ciò che è rilevato per i prodotti naturali coltivati sul territorio con bassissimo impatto ambientale e di beneficio per il territorio medesimo. Il mondo si appresta a mutare compiendo il passo verso una transizione energetica che ridurrà significativamente gli effetti sul clima e soprattutto per quanto riguarda l'impatto sulla salute dell'essere umano, ma noi seguiamo ancora il trend di sviluppo del XIX secolo senza dare alcun accenno di inversioni di marcia. Anzi, l'elevato impatto delle raffinerie ospitate sull'isola, quello delle industrie chimiche che costituiscono una catena estesa di produzione con la raffineria, non sono a costo zero per l'ambiente e per la salute, di cui l'Italia e i suoi abitanti sembrano curarsi poco, se non quando si giunge nella fase terminale degli ospedali che gravano in condizioni disastrose. Dire che l'export dell'isola ha avuto una crescita elevata come dato aggregato è fuorviante perché non indica alcuna crescita sul piano dello sviluppo di una terra condannata dal ricatto lavoro-fame che da sempre determina le scelte di sviluppo dell'isola.